Cosa negativissima, è stato tolto e definanziato circa 1,7 milioni di euro sulla sicurezza urbana. Io penso che in un momento di difficoltà come questa che vive il territorio, togliere una cifra del genere rispetto al controllo del territorio, rispetto a cittadini che chiedono invece maggiore forze dell'ordine, maggiore vivibilità e poter uscire di casa con la loro massima serenità, io penso che questo, come ad esempio 21 mila euro sul municipio 15, sui trasporti. Io volevo capire, siccome sono stati spostati in una tipologia di settore chiamato servizi istituzionali, io vorrei capire qual è l'urgenza prioritaria per far sì che vengano tolte queste somme e portate su una voce fantasma chiamata i servizi istituzionali e non poter invece incidere sulla sicurezza vera e reale di questa città.